Arriva in Parlamento il caso del rogo dell'Ecoballe a Persano. Il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sarà oggi in aula e dovrà rispondere all'interrogazione del deputato salernitano di noi moderati Pino Bicchieli. La richiesta del parlamentare è molto semplice e cioè sapere perché le ecoballe fossero lì, stoccate nel comprensore militare nonostante le promesse di un adeguamento temporaneo. Sarà il responsabile del dicastero di via Cristoforo Colombo a dover dare una risposta e una posizione ufficiale anche o soprattutto da parte del governo a guida Meloni. Qualsiasi cosa verrà detta da Pichetto Fratin sarà di sicuro interesse e in particolare per capire cosa succederà nel prossimo futuro. Si attendono a tale proposito i risultati di ARPAC che sta monitorando la qualità dell'aria e del suolo nella zona limitrofa all'incendio. Analisi verranno effettuate anche alle acque sia di superficie che sotterranee. Oltre che in Parlamento la vicenda finirà anche a Palazzo Santa Lucia. I consiglieri della Lega, Aurelio Tommasetti e Severino Nappi infatti, interrogeranno il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca su eventuali responsabilità e sull'omesso controllo. Mentre la preoccupazione della popolazione residente è ancora molto alta, la politica dovrà dare delle risposte, sia per capire cosa davvero sia successo e sia per capire cosa succederà nel prossimo futuro.